negli studi di tv siti il segretario cittadino della cgl luca chiusel uomini in mare storie di marittimi torresi naufragi e battaglie sindacali oggi la presentazione di questo libro come nasce l'idea nasce l'idea proprio per dare diciamo così una un rispetto per i marittimi di torre del greco torre del greco è una città marittima non ci dimentichiamo che ha perso e ha dato tantissimo nasce pure per dare non solo il rispetto ma per far ricordare che torre del greco ancora una memoria storica che riguarda non solo la conquista dei diritti che nasce dal 59 e quant'altro con molti marittimi ancora oggi si ricordano di quello che è successo negli anni 59 ecco cosa successe nel 1959 perché questa data è così significativa è significativa perché comunque da lì è iniziato proprio la conquista dei diritti poi dei marittimi che sostanza i marittimi non avevano nessuna nessun diritto non avevano assolutamente niente non potevano né scioperare né conquistarsi e cioè erano proprio considerate merce 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 bruttissima e quindi da questo punto di vista nacque poi questo sciopero che che poi venne aggregato da tutta una serie di situazioni eh violente con con risse con arresti eh e quant'altro che i nostri cioè voglio di nostri compagni poi pagarono addirittura con delle conseguenze di carcere di carcere di esilio e di esilio forzato per molti per molti storici che ancora oggi rappresentano rappresentano la CGL con grande con grande orgoglio. La CGL è sempre stata vicina come sindacato ai marittimi ieri oggi e domani? Eh sì domani cominceremo le nostre lotti da capo quindi cercheremo di avere di avere ancora più forza perché non abbandoniamo nessuno quindi non siamo abbiamo avuto un percorso un poco in difficoltà alti e bassi però attualmente e tanto è vero stasera ci sarà anche la presenza del segretario generale dei trasporti che eh rappresenta i marittimi. Siamo riusciti grazie pure alla giornalista Mariella Romano che ha fatto un lavoro strepitoso ed eccezionale eh veramente la devo ringraziare di cuore e stirpare un pochettino che erano tutte le morte le morte che sono verificate in mare le varie Moby Prince eh sabbia uno eh tutti tutti cioè tutto il sacrificio che i marittimi torresi hanno fatto in questo in questi anni anche con le conquiste sindacali oggi noi paghiamo questo scotto che ci sta questa questione dei marittimi che molti ancora non hanno dei diritti dei diritti acquisiti e che molti molti armatori non considerano veramente questa questione. no